C-Future in questo momento sta puntando su soprattutto la parte duale che riguarda un po' la parte marina duale, ma soprattutto sta cercando di portare anche nuove idee, nuove tecnologie nel campo navale. Questo discorso delle nuove tecnologie portate nel campo navale è anche uno degli obiettivi del distretto, perché il distretto tra i suoi obiettivi, oltre a promuovere lo sviluppo tradizionale delle aziende che partecipano al distretto tramite ricerca, ha anche quello di portare nuove idee, nuove tecnologie. Ad esempio in C-Future una delle nuove tecnologie su cui puntiamo nel portare a conoscenza del campo navale e soprattutto degli addetti del settore navale è quello dell'Additive Manufacturing. Questa tecnologia ha un grande vantaggio che danno ampia libertà al progettista di costruire l'oggetto secondo la sua funzionalità essendo meno legata, avendo meno vincoli dal punto di vista della realizzazione tradizionale. In questo modo si possono costruire oggetti che prima non si riuscivano a realizzare o oggetti che prima si realizzavano ma con forme non ottimali. Il nostro obiettivo è sollecitare un po' gli operatori del settore navale per fare in modo che contattando operatori di altri settori e contaminandosi proprio con questi operatori e vedendo la possibilità di questa realizzazione ci possa essere anche la possibilità di introdurre o di ampliare l'utilizzo di queste tecnologie nel campo navale che secondo molti esperti potrebbe essere la tecnologia del futuro proprio non in sostituzione ma affiancandosi alla fusione tradizionale, al modo normale di realizzare altri oggetti tramite saldatura oppure tramite lavorazioni meccaniche, producendo una riduzione di costi e soprattutto una maggiore efficienza negli impianti e negli oggetti che uno realizza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS